Allora, buongiorno, Napoli Amedeo, presidente del Pentagono, perché la festa del tesseramento? Questa è la seconda festa del tesseramento, voluta dal direttivo per poter passare una giornata con i soci, per far divertire i bambini, come avete visto ci sono oltre 60 bambini a cui già abbiamo dato un pranzo, hanno già pranzato, adesso i soci adulti pranzeranno con noi, la giornata proseguirà con gare, giochi per i bimbi, tutto ciò in uno splendido scenario che avete visto, questa è una delle nostre iniziative, di seguito faremo la festa della Repubblica il 5 giugno e faremo la festa Memorial Totò Nasi Sal, una corsa di biciclette, sempre il conto di Fisciano e a giugno rifaremo per la seconda edizione il Campo Scuola, una manifestazione che l'anno scorso ha avuto un bel successo e quindi la rifaremo. Niente, oggi è una bella giornata, pure il sole ci ha accompagnato e quindi faremo veramente una bella cosa. La gente si vuole divertire e noi facciamo di tutto per far divertire le persone, niente di più. Chi si vuole iscrivere al Pentagono sa dove siamo, a Penta di Fisciano, Giardini Rocco Napoli, quota sociale annuale 12 euro, simbolica, giusto per far sì che le persone possano partecipare a tutte le nostre iniziative. Allora, per maggiori informazioni sulla nostra associazione abbiamo una pagina Facebook, abbiamo un indirizzo email, pagina internet, quindi potete consultare tutte le nostre manifestazioni che man mano verranno pubblicizzate tramite stampa, televisioni e mezzi vari. Niente, che dire, è una bella giornata, ne faremo di molte quest'anno con il nuovo direttivo che si ha nel suo DNA queste cose, far divertire le persone. Noi ci stiamo provando, spero che si divertano. Grazie. Sì, allora, più che altro è un'occasione per stare insieme. Il 25 di aprile il Pentagono, la nuova gestione, compie un anno. Noi quindi facciamo il rinnovo degli iscritti, dei soci, in più organizziamo questa festa che fondamentalmente è per i bambini e non per noi. Noi li facciamo solo compagnia. È un modo soprattutto per stare insieme e passare una giornata in allegria, tenere ancora alta la bandiera di questa associazione che sta costruendo qualcosa di veramente significativo per questa piccola frazione del Comune di Fisciano. Buongiorno. Buongiorno è una giornata soleggiata che accompagna tutti i soci nuovi e vecchi al fine di trascorrere una giornata con la motivazione al tesseramento che può essere un motivo di aggregazione perché il motivo principale è quello, lo scopo è di creare una giornata che possa consentire a tantissimi soci e non e anche ai nuovi un'opportunità è quello di incontrarsi, scambiare opinioni, un incontro al fine di consentire quello che può essere un momento di aggregazione. Quindi l'auspicio è quello che trascorre una giornata all'insegna della tranquillità, della solidarietà, dell'amicizia, del confronto e anche quella di cercare di rinnovare il consenso all'associazione che ci permette di raggiungere determinati obiettivi di compagnie e di amicizia. Grazie. Io sono Francesco Gioiello, questo è il secondo anno che sono un loro socio, sostengo l'iniziativa anche perché credo che in un contesto territoriale come il nostro l'associazione ha un fine ben preciso, quello di far sì di permettere a tantissima gente che magari non trova momenti opportuni come questi qua di fare aggregazione. Mi occupo, sono un libro professionista, ho poco tempo ma questo non significa che non possa dare il mio contributo come tantissimi che hanno i loro impegni lavorativi non devono un contributo solito all'associazione.